Salve, sono MonkeySimon e siamo arrivati al penultimo aggiornamento di questa stagione 4 del capitolo 5. Pace 31.30, siamo agli sgoccioli della stagione, così come siamo anche agli sgoccioli della dignità di sto gioco. Ma non è mai una perdita di dignità inserire il codice MonkeySimon all'interno dello shop di Fortnite. Perché mettete che ci stanno le skin che vi piacciono, eh. Questo aggiornamento introduce il Fortnitemers all'interno di questa stagione 4 del capitolo 5, sebbene in realtà il vero e proprio aggiornamento di Halloween dovrebbe essere il prossimo, cioè l'ultimo. Ma ce ne stanno da non assaggio con alcune skin e alcune collaborazioni, molto entriamo con Halloween. In primi se parliamo della mappa e del gameplay, perché la mappa non ha grandi e sostanziali cambiamenti, se non il lago al centro della mappa, quello dove c'era anche la collab di Pirati dei Caraibi, che è stato completamente prosciugato. Ciò dovrebbe avere a che fare con l'evento finale della stagione, che addirittura dovrebbe comprendere il punto 0. Accanto alla Epic sin dal capitolo 4 ormai, in questo capitolo 5 sembrava essere completamente dimenticato, ma adesso avrà un ruolo fondamentale probabilmente per ricondurci ad oggi. Il che mi fa particolarmente contento, perché non vedo l'ora di abbandonare questa mappa per poter tornare a giocare a qualcosa che somiglia a Fortnite, che non sia reload, per quanto reload sia bellissimo. Il gameplay molto probabilmente comprenderà anche le solite scope, zucche con lanciarazzi, eccetera, eccetera, e se non ci dovessero essere molto probabilmente saranno abilitate quando saremo più prossimi ad Halloween, quindi nella prossima patch. Ma intanto avremo l'arma mitica di Sou, che è una skin che è pure alta, essendo lui una bambola che è bassissima, quindi Sonic fattibilissimo, che è questa bicicletta kamikaze che tu puoi lanciare verso gli altri giocatori e questa scoppia. Cosa che sarà inevitabilmente e indiscutibilmente meme, farà un botto ride per due giorni, ovviamente, e proprio ci dimenticheremo di Fortnite fino alla prossima patch. O fino all'evento, perché sì ragazzi, ci sta un evento anche questo sabato, non c'è soltanto l'evento finale della stagione. E quasi sicuramente ci introdurrà ad Halloween, ci introdurrà a Fortnite. Nightmares. Non iniziate a chiedere a che ora è, perché ragazzi c'è il timer, quindi basatevi sul timer e si capirà approssimativamente l'ora, molto probabilmente sarà come al solito alle venti. Se non ci arrivate, ci avete qualche problema. Vi faccio persino vedere dove è situato, dove è locato, così che lo possiate sempre vedere, anche se in realtà sarà spammatissimo pure in lobby. Vi lascio letteralmente dieci secondi di orologio per poterlo contemplare nella sua magnificenza e poter vedere anche dove è situato sulla mappa, e se provate a schippare avrete una brutta giornata. Nell'evento finale della stagione, ed eventualmente anche del capitolo per quanto riguarda oggi, ne riparleremo in futuro, non vi preoccupate. Passando invece a quella che è la parte estetica di questa patch, c'è parecchia roba, c'è parecchia carne sul fuoco. Non tenendo conto di tutto quanto il materiale che potrebbe essere cretato, quindi altre collaborazioni o altre skin, abbiamo a disposizione un bel po' di skin iconiche per quanto riguarda mascarina, skin che hanno fatto la storia di Fortnite in versione rielaborata, reworkata, ma anche tantissime collab a tema Halloween, come ad esempio Saw e Leatherface. Ci tengo a sottolineare per l'ennesima volta, non soltanto per sostenere la causa di Gennaro e la causa di un mio amico, ma anche perché è talmente logico e talmente palese, che Saw l'enigmista è bassissimo, è una bambola, e tutti quanti si aspettavano, tranne me e Gennaro appunto, che sarebbe stato un backpack, massimo massimo un pet, ma non una skin vera e propria allungata, ed è stata fatta bene, non è strecciata. Il Karen è ancora più fattibile e realistico, l'arrivo di Sonic su Fortnite come skin, non come mero backpack. Stateci perché ormai non ci stanno più scuse per dire che non è possibile, basta soltanto far siglare questo maledettissimo accordo. Poi c'è anche Leatherface, dove dubito che ci sarà anche la sua motosica come arma mitica, potrebbe essere un po' troppo violento, e Jason, che vi ricordo che è una collaborazione di Halloween difficilissima, i suoi diritti sono sempre spesso blindati e molto difficili da ottenere, non arriverà su Fortnite entro il 2024, quindi ce lo dobbiamo aspettare per Fortnite nel 2025 al prossimo Fortnite Mers, o a luglio. Questo sarà lo stile finlande di Hope, che avrà a che vedere molto con la storyline, molto pigro per quanto bella sia la skin nel remake, ma davvero si potevano impegnare di più ad essere più fantasiosi, metterla tutta quanta dorata sa tantissimo di stile finale del pass battaglia, che insomma, se vedete bene come sono fatti, vedete che sono la pigrizia fatta stile. Mentre questo sarà, anzi, è lo scala livelli di questa stagione 4 del capitolo 5 di Fortnite, già disponibile da adesso, visto che sono le ultime 4 settimane di season. Parere personale, certo, stiamo sul canale mio, questa secondo me è una delle più brutte skin e scala livelli che abbanno mai fatto, non tanto perché sia brutto di per sé per estetica, ma è talmente anonimo, è talmente così fuori contesto con la season, che oltre a dimenticarcelo tutti, penso che lo consideremo uno dei più grandi sprechi per quanto riguarda lo scala livelli. C'è questo nuovo stile del Dr. Doom, che avrà molto a che vedere con l'edento, dove si distruggerà la torre, tra le altre cose, e per cui sono previste addirittura delle vere e proprie sequenze cinematiche, dei veri e propri trailer, anzi, dei render. Il che mi fa pensare che oltre ad esserci tanto budget della Marvel, quello che dovrebbe accadere in questo mini-evento potrebbe essere talmente complesso a livello di sviluppo che preferirebbero giocarsela con un filmato e cambiare direttamente la mappa con uno switch, senza troppe animazioni in tempo reale che potrebbero creare conflitti e problemi. Da questa patch sono già disponibili due delle skin che saranno anche parte del Fortnite Mers, e non sono appunto solo l'Etherface, ossia una nuova Rubino in stile cubo, ma anche un nuovo Cavaliere Rosso. Mentre credo che dalla prossima patch avremo direttamente, oltre che le collaborazioni, anche questo Cavaliere Ultima Zucca, molto figo, bello che abbiano voluto fare un remake proprio di quella skin, Marshmallow nella sua versione di Halloween, nell'ennesima versione di Marshmallow, e anche questo nuovo Gaff che è esattamente nello stesso stile di quel mio oscolo che abbiamo visto già dallo scorso anno per il Fortnite Mers. Ma non temete, perché arpeggio non ci sta mai limite, non ci sta mai fine, perché ve lo ricordate Jack Skeleton lo scorso anno, visto che stiamo parlando anche di stili dello scorso anno? Bene, ci saranno anche altre due skin, sempre entrambe provenienti da Nightmare Before Christmas, che bello! Ma non dimentichiamoci anche di Lexa, non Cell Shading, chissà perché, versione strega, che conferma anche il ritorno per l'ennesima volta, per l'ennesima anno consecutivo, delle scope, molto apprezzate per quanto riguarda il fuggire, che farà la felicità della community di Twitter, e anche di tutte e fante quelle persone che sono un po' tristi, e hanno solo e soltanto Fortnite nella propria vita. Però c'è da dire che è veramente una bella skin. Questo per il momento è tutto quanto quello che c'è nella patch 31.30 di Fortnite, e sicuramente la parte più corposa del Fortnite Mers ce l'avremo post-evento, e soprattutto direttamente nella prossima patch, dove tutto quanto si spera sarà addibito al Fortnite Mers. In tutta sincerità non mi entusiasma particolarmente questo aggiornamento per quanto concerne le novità introdotte, perché come sapete perfettamente io non sono un grande fan dei Fortnite Mers, e quindi degli update di Halloween su Fortnite, ma anche degli update di Halloween in generale nei videogiochi. Sebbene la festa mi piaccia molto e anche tutti quanti i prodotti annessi, oddio tutti quanti no, ma comunque sia molti. Dal capitolo 3 in poi hanno sempre fatto meno del meno del minimo indispensabile, puntando maggiormente sulle collaborazioni che erano presenti pure prima, ma comunque sia Fortnite aveva maggiore spazio, rendendolo di fatto soltanto una vetrina per mettere la solita cosa di Halloween esterna. E sono abbastanza certo che quest'anno non sarà da meno. Quindi per quanto possono essere interessanti le novità introdotte in questo aggiornamento, non mi entusiasma già di per sé tutto quanto il contesto di Halloween. E non è nemmeno l'aggiornamento vero e proprio, perché poi c'è star prossimo. Ma ora che rimanche smonche, qua sotto nei commenti voglio assolutamente sapere la vostra, su tutto quanto quello che verrà introdotto e tutto quanto quello che già è presente in questa patch. E anche sull'evento. La sezione nei commenti di questo canale è a vostra più completa disposizione, e sapete che ve leggo molto ma molto volentieri. Vi ringrazio per tutto quanto l'immense e infinito costante supporto che date ogni giorno al canale, se vuoi di cui riapprezzo tantissimo. E infatti, dovuti i meridatissimi ringraziamenti a tutti quanti, non posso che dare un appuntamento direttamente ad un prossimo video.